Secondi per andare al tiro, c'è Acognon, la palla per Alexander, 11 secondi, va al tiro! E' solo a rete! Sarpasso Dinamo! 5,64 a giocare, attenzione, secondo tiro libero per Alexander, vediamo come va... Sì! La riempa, la sarpasso della metà campo, e poi alla prima occasione, attenzione, Simon, non va a nessuno, va al tiro! Realizza! Per prendere un tiro, vediamo questo schema, palla per Acognon, va al tiro, Acognon, e realizza! Grazie a tutti!